Salve, sono Paola Triconi, ho 21 anni e sono studentessa al terzo anno della facoltà di lettere. La mia passione più grande è la poesia, insieme alla letteratura, la filosofia, l'arte e ogni cosa concerne la creatività. Da quando sono nata sono affetta da una malattia invalidante che è l'atrofia muscolare spinale che comporta una graduale paralisi di tutto il corpo, ammessi problemi gravi sull'apparato respiratorio. Nonostante ciò considero la mia vita una vita alternativa che possa dare all'umanità un contributo nuovo proprio perché a causa della mia condizione e grazie alla mia condizione io vedo la vita con occhi diversi. Quindi considero la mia vita buona, considero la vita buona la mia, ma considero anche vita buona la vita di ognuno di noi se solo riuscissimo a guardare le piccole cose di ogni giorno con molto diversi. Come diceva Bernadette, il paradiso è già in mezzo a noi, basta vedere le piccole cose di ogni giorno.